Grazie da questo Topic10, Topic10 ragazzi, video presentazione per voi lo stavate aspettando ed eccomi a commentare ragazzi Io mi chiamo Domenico, ho 27 anni, sono della provincia di Napoli, essendo un po' napoletano ragazzi amo la pizza in tutti se genere, in questo momento che stiamo studiando anche scienze, infermeriste che ragazzi, il motivo, anzi uno dei motivi che ci va per cui ho aperto il canale YouTube e raccontare la mia passione, il mio tifo romantico verso ragazzi la Juventus il mio idolo, quello che mi ha avvicinato a questa squadra, la mia squadra del gruppo dei ragazzi del mio ragazzi mi dico, mi inturiccio, oltre ai video della Juventus ci saranno altri tipi di vita, di trattenimento tra cui i gameplay, amo i gameplay, la mia passione, una delle mie passioni e poi ci saranno magari video di attualità dove sentirete la mia opinione, sentirete come la penso perché a me, anche a me piace, comunque esprimere la propria opinione ragazzi quindi io vi invito ragazzi ad iscrivervi al mio canale YouTube lo troverete nel tasto di iscrizione, attivate la campanella per due notifiche e poi seguitevi ragazzi, trovate tutti in descrizione seguitevi sulla pagina Facebook Tomic10XLT e pagina Instagram Tomic, tantino in basso 10 ragazzi io vi saluto, vi ho portato un bello di presentazione spero che vi sia piaciuto e dal vostro Tomic10 e dal vostro Tomic10